A due giorni dalla revoca di Assessore Vicesindaco della Dottoressa Serra da parte del primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, la Serra racconta ai nostri microfoni, rivolgendosi principalmente ai cittadini, il suo pensiero in merito alla situazione che sta vivendo attualmente. Il mio intervento oggi qui a Cilento Channel, innanzitutto vi devo ringraziare perché date spazio sempre a tutti. Io sono qui per dire alla gente quello che è accaduto e quello che è successo. Io mi sono macchiata di un reato gravissimo. Ho contestato una delibera. Allora non è più il problema della delibera o dell'ospedale. Il problema è di libertà. Se si può esprimere la propria libertà di espressione, se si può dire quello che si pensa. Penso che alcuni mi conoscono. Faccio il medico da tanti anni. Sono una mamma, ho tre figli. Mi sono candidata in questa campagna elettorale con grande fiducia, aspettando dei tempi nuovi, che apportassero delle cose nuove, come il tempo porta. Revocare un Assessore, in questo caso, tu potevi senz'altro non condividerne le idee. Ma questo è uno dei pochi casi in Italia che siano mai accaduti nella storia della legge Bassanini in cui un sindaco revoca, un vice sindaco, che è espressione del popolo. Cioè, io sono stata eletta consigliere comunale. Allora non è a me che il sindaco deve dire, se mi revoca, deve dire alla mia gente perché ho fatto qualcosa di così grave. Qual era la fiducia che veniva a meno? Veniva a meno forse che avevamo punti di vista diversi. Quante volte gli avevo detto, facciamo così, forse la nostra gente si aspetta questo. Noi ci siamo candidati per questo, per dare una risposta di lealtà, di fiducia, di sincerità ai territori. Era questa la mia voce. Invece è iniziato dall'interno uno stracismo, probabilmente sin dai primi momenti, perché c'è chi voleva il mio posto di vice sindaco, non andavo bene perché io non ero espressione del vecchio potere. E quindi io non andavo bene. Più volte hanno cercato di revocarmi, ma io ho cercato di tenere duro, di far capire che anche se ci sono delle idee differenti, queste non per forza sono nocive, perché non devono fare male a noi le idee diverse. Basta che non facciano male alla nostra gente. Lo definisce ospedale della libertà, il momento che sta vivendo in questi ultimi giorni la dottoressa Serra. Infatti racconta quello che è accaduto e il motivo del suo allontanamento dalla casa comunale e fa un appello agli altri componenti della giunta di esprimere il loro pensiero sull'ospedale di Agropoli. Questo mio momento, sapete come lo voglio chiamare? L'ospedale della libertà. Io da medico ho visto le persone trasportate sull'autombulanza a morire. Allora io non posso accettare, mi dispiace, non lo posso accettare, che Agropoli venga definita città disagiata, come se fosse l'isola di Ischia, dove quando c'è il mare grosso non si può attraversare. Il mare disagiato è una strada che d'estate è impercorribile, che spesso è rotta e dove la gente sulle autombulanze viene trasferita da quella che è ad Agropoli è un ambulatorio, perché voi non potete usare con me le parole sbagliate. Ospedale dove c'è un pronto soccorso con dei letti di rianimazione. Non dove ho da fare la piccola cisti della mano o faccio l'intervento ambulatoriale per le vene, ma voi veramente andreste in un posto dove se vi accade qualcosa mentre vi operano di vene varicose, voi non avete una rianimazione dove andare, vi devono mettere sull'autombulanza e portare. Lasciate la salute, ma non è solo a questo punto la salute, lasciate la libertà di esprimere la propria opinione. Noi siamo in un regime democratico, voi avete voluto chiudermi la bocca con un atto crudele, pretestuoso. Non voglio dire altro, perché io non sono abituata ad offendere nessuno, però dico questo, invoco i componenti di questo Consiglio Comunale, di tutta la maggioranza, a dire la propria, ad alzare la mano per dire io la penso così per l'ospedale di Agropoli. Facciamo un passo indietro, ritorniamo un attimino a quel 25 di ottobre del 2018, quando in giunta si decideva per sostenere la rete cardiologica dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, perché è proprio qui che il sindaco punta la sua attenzione. Lui non si riferisce all'ospedale di Agropoli, dice che l'ospedale di Agropoli in questo caso non c'entra nulla, è soltanto una questione di rete e di essere compatti con il territorio per sostenere un servizio importante per i cittadini, anche di Agropoli e del Cilento intero, e quindi di non farselo strappare per portarlo poi alla piana del Sile. Allora Raffaella, sono molto contenta perché io poi mi faccio prendere dall'emozione e non c'entro le cose, invece tu che fai la giornalista e sei emotivamente chiaramente abituata un po' a frenare questo impo, mi fai una domanda molto importante. Allora, questa delibera poteva anche essere giusta se fosse il frutto di una decisione della città, invece quella delibera era un copio in colla di qualcosa che era stato fatto altrove perché portava già l'affissione di tutto, l'avvocato che veniva scelto, però io voglio dire al territorio, a Vallo della Lucania, che io sono felicissima che ci sia l'ospedale di Vallo perché non tutti gli ospedali possono avere tutto e ben venga che noi abbiamo delle possibilità di ospedali che hanno delle specialità superiori. Ma il problema è un altro, è francamente politico. Perché? Se mentre passa il piano sanitario regionale, sta passando, sta per essere approvato, io che cosa faccio come cittadino di Agropoli? Anziché scrivere una lettera e un ricorso al TAR in cui chiedo che sia riconosciuto Agropoli come pronto soccorso necessario perché una città che d'estate con centomila abitanti ha il dovere di dare una risposta di salute anche ai turisti che vengono qui. E allora, la domanda che io ho fatto al sindaco è stata questa ed è stata anche causa di forti litigi tra di noi. Tanto è vero che anche i bambini pubblicamente io ho esposto la mia idea, quindi nessuno può dire che non sapevano come la pensassi. E allora, quando io ho visto questa delibera in cui partivano cautamente perché gli era stato tolto il polo cardiologico e volevano darlo a deboli, allora io gli dissi, guardate, avete anche ragione, però il polo cardiologico è stato chiuso per mancanza di personale, ma il problema non era questo perché poi nella delibera, sentite bene, noi facevamo voti alla regione perché riconoscevamo il primato di Vallo come ospedale e territorio. Ci avete capito qual era la cosa? Non era soltanto la cardiologia, che andava benissimo. Il problema era che facevamo voti alla regione Campania, allora la domanda è stata se io fossi stato, e gliel'ho detto, se io fossi stato il sindaco di questa città io avrei lottato per la mia gente, io avrei fatto una delibera in cui chiedevo mantenete Vallo, che è giusto, ma date ad Agropoli il suo pronto soccorso. Questi erano i voti che dovevamo fare in quel momento in cui quella delibera poteva essere importantissima che arrivasse alla regione in quei giorni. Tanto è vero che la delibera del sindaco di Vallo della Lucania, che giustamente ha pensato al suo territorio, è fatto bene, è arrivata in quei giorni, quando passava il piano. La mia domanda è perché Agropoli ha pianzato al piano B quando c'era l'autostrada di un piano A. Questa è la domanda che io ho fatto. E poi ciliegina sulla torta. Non solo è un ospedale, non è un ospedale, non è un ospedale, è un primo soccorso disagiato, ma in deroga. Sapete che vuol dire deroga? Che già che noi siamo accorpati a Vallo, il direttore sanitario di Vallo, che io immagino, io non ho avuto contatti con lui, bisognerebbe vedere lui con chi ha avuto dei contatti, le vorrei chiedere, con chi ha avuto dei contatti dell'amministrazione di Agropoli, lo dica, glielo chiedo io, pubblicamente. Allora a questo punto il direttore sanitario dell'ospedale di Vallo potrebbe avere difficoltà con il suo ospedale e decidere di chiudere quella deroga tra un anno, tra tre mesi, no? Oppure, già che un direttore sanitario è espressione della politica, potrebbe cambiare la politica. Il direttore sanitario cambia tutto quello che ha affermato e promesso, cade il giorno dopo. Ma scusatemi, un territorio di 52 mila abitanti, tra Capaccia, Agropoli e i territori limitrofi, ma non merita di meglio. Deve aspettare la mannaia della politica quando gli dà e quando gli toglie. Noi abbiamo dei diritti, dobbiamo dirlo fortemente, non ci nascondiamo dietro alle parole. Io non ho bisogno di poltrone per parlare. La poltrona a casa mia, io ce l'ho. Io sono convinta che la vita di ognuno di noi parla di quello che siamo. La vita di quello che siamo. E io credo che gli agropolesi, forse, anzi sono certa, mi stanno mostrando un affetto straordinario in questi giorni. Era una donna sola, sola, una persona come me, isolata nelle stanze di un comune. Oggi sono tanti quelli che stanno vicino a me. E li ringrazio forte, perché non credete, la voce delle persone non può essere zittita per sempre.